Allora, io sono il portavoce della Proloco di Marinello e abito qua dal 2001 e siccome mi sono ritrovato nel verde, mi sono innamorato di questo borgo, villaggio rurale e industriale. Ho scritto un libro, un primo libro che è uscito un mesetto fa online, Luna Crescente, e sto studiando per fare il seguito che sarebbe Luna Calante rispetto alla famiglia Fabricotti e tutto l'impero che si è costruito. Mi piange il cuore, quando vedo, quando vado in giro, spesso e volentieri, lo sporco ovunque, bottiglie a bordo strada, sacchetti vengono lasciati in giro e ogni giorno che passa c'è sempre un sacchetto in più che rimane. Anche le ruote e tutto il resto, sì, perché poi l'amministrazione comunale mi ha detto che veramente non hanno i soldi per portarle via, non sapevo più cosa fare.